Prodotti elettronici, materiale elettrico, giocattoli, colle viniliche glitterate, tempere ed acquarelli destinate ai bambini, ma anche profumatori per ambiente a combustione. Sono oltre 145.000 i prodotti, la maggior parte dei quali legati al business di Halloween e Natale, sequestrati dagli uomini delle fiamme gialle del gruppo di Messina e della compagnia di Taormina. Erano pronti per essere immessi sul mercato in due esercizi commerciali gestiti da operatori di origine cinese, benché privi dei requisiti di conformità e sicurezza. I prodotti ritirati dal commercio risultavano per la quasi totalità privi del marchio CE, che ne attesta la conformità agli standard di sicurezza e garanzia per i cittadini e delle indicazioni sulle etichette e delle informazioni minime previste dal codice del consumo, come quelle relative al produttore, all'importatore comunitario, la presenza di sostanze che possono arrecare danno alla salute o all'ambiente, i materiali impiegati per la realizzazione del prodotto, nonché le istruzioni, anche in lingua italiana e le eventuali precauzioni d'uso. Una condotta illecita, oltre che lesiva della concorrenza, particolarmente insidiosa per i consumatori, tratti di inganno sulla qualità dei prodotti acquistati, che di contro risultano potenzialmente dannosi per la salute. Le fiamme gialle peloritane, quindi, dopo aver rimosso la merce dagli spazi destinati alla vendita, hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutti i prodotti, inviando segnalazione alla Camera di Commercio di Messina per l'applicazione delle relative sanzioni. Inoltre, nel corso delle attività ispettive eseguite nel punto vendita di Messina, i finanzieri hanno constatato come tutti e sei i lavoratori presenti fossero totalmente in nero. Uno dei dipendenti è risultato persino percettore di reddito di cittadinanza. I lavoratori e i due imprenditori cinesi sono stati segnalati agli uffici IMSS per i provvedimenti di competenza.